Siamo con Francesco Segreto, allora prima valida nel tuo primo turno di battuta come giocatore del Palo Alvesmo, non male, poi due giocate difensive, magari di routine, comunque sono i due giocatori che hanno chiuso la partita, entrambe assistenza samba. Parloci un po' di questo tuo debutto. Insomma, le parole sono poche, più diciamo le emozioni in questo momento che circolano nel corpo, tante emozioni appunto, insomma, voglia di giocare, voglia di fare, insomma, in realtà le parole sono molte poche, si vive il momento, si vive il godimento di aver fatto la prima valida, le giocate, eccetera, eccetera, e adesso ho sport da mangiare, più che altro. Esatto, facciamo un rituale per chi giovane arriva a fare la prima valida. Adesso toccherà alla nonna, alla nonna, alla mamma e a me, a me il bere, alla nonna e alla mamma il mangiare, insomma, per sfamare gli stomaci della squadra. Ricordati anche dei social, ovviamente. Certo, certo. A parte di tutto, complimenti ancora. Grazie. Complimenti a tutta la squadra sull'ultima battuta prima di lasciarti andare, un bel attacco, otto punti, che potevano essere di più, e abbiamo parlato anche qui di Pizzer, un'ottima prova da parte di Bocchi e da Pizzeri, come hai visto anche i tuoi compagni sul monte. Benissimo, benissimo, li ho visti sicuri, grintosi, insomma, anche loro con tanta energia e tanta grinta, quindi molto, da quello che posso dire io, sono felice di vedere la squadra aggressiva e carica di giocare. Complimenti ancora in bocca al lupo e alla prossima. Un saluto. Grazie.